Abbiamo lavorato all'inizio della stagione su due modi, sul 4-3-3 e 3-4-3, quindi in base poi alle partite che andiamo a affrontare decido se giocare in un modo... Si, giocano col 3-5-2, voglio pensarci se giocare con uno o l'altro, però i ragazzi l'hanno assimilato bene sia uno che l'altro, la squadra soprattutto nel primo tempo mi è piaciuta col Cittadella, siamo stati bravi anche nel ripartire, accompagniamo l'azione con più uomini rispetto al 4-3-3, bene anche nella fase difensiva. A partita col Cittadella c'erano anche diversi esordienti come Sabelli, come... poi Altobello, quando è entrato Sciaudone, quando è entrato Ristoschi, considerazione anche di questi aspetti, la condizione che era ancora al meglio, soprattutto di giocatori come Junco, come Albadoro, qualcuno che ha avuto qualche problema come Nicola, Bellono, e quindi sono contento, però bisogna migliorare, migliorare, è la prima partita, bisogna avere cali di tensione, dobbiamo giocare con grande umiltà e soprattutto con affano, non ci possiamo permettere cali di tensione, se commettiamo errori, questo errore, rischiamo qualsiasi partita. Non c'è Papa Vaico, che era un giocatore per loro fondamentale, però ci sono altri giocatori bravi, poi in casa l'Ascoli si esalta, l'anno scorso ha fatto una grande impresa, secondo me, quindi è una partita sicuramente non facile, però quello che mi preoccupo più che altro è la testa dei miei ragazzi.